Allora adesso, cosa vogliamo fare? Perché avevamo il gioco dei Ghostbusters, ma io ero più sportivo oggi, avevo più questa tentazione di... E se ti senti sportivo bisogna andare a vincere qualche campionato qua. E beh... Andate in attacco, dai. Offensivo, offensivo. Tanto in difesa non la fermate uguale, quindi è inutile. E poi la miglior difesa è l'attacco. Bravo. Tu sì che stessi... Ne sai. Tu ne sai. Oh, attenzione, attenzione. Teniamola qui finché non c'è l'opportuna occasione. No! Ed è dentro. Ed è dentro. Ed è dentro. Mamma mia, come vai? Hai visto? Adesso qua abbiamo fatto. Adesso dobbiamo stare attenti. Adesso difensivi. Difensivi. Ok, questo gol è prezioso. Ma guarda, l'hai fatto subito. Prima di 10 minuti. Infatti. Forse era davvero quello il problema, che erano troppo difensivi, tutti. E magari non andava bene. Arrabbiati. Un secondo gol. E l'attivato, l'attivato, l'attivato. E l'attivato. Mamma mia. Incredibile. Alex, non stai guardando? E tu vorrei cambiare difficoltà. No, stavo guardando quei gol bellissimi che hai fatto. Stai stupendi. Alex, non mi ha incitato, eh. Eh, lo so. Scusami. No, stai guardando. Non volevo. Guarda lì. Neanche stregato mi sta incitando al punto giusto. C'è stregato? Cioè, queste due gol a zero. No, è stato forte e potente. Forte e potente, va bene. Sì, lo giuro. Aspetta che mo' dobbiamo privarli a loro, però, eh. Che questi... Questi sono forti, eh. Non si fanno mettere anche loro i piedi in testa, eh. Ma tu puoi mettergli i piedi tra le gambe. Fare fallo. Che schifo. No. Io no, ti dissocio. Ti dissocio. No, no, no. Mamma mia. Mamma mia. Io mi dissocio. E come non te l'hanno fischiato? Ogni volta che si fa i piedi finisce male. Eh, cosa devo fischiare? Tu dovevi fischiare qua. Il fallo. Cosa è successo? Mi hanno fallato? No, hai fallato tu, mi sai. No, no. Mi hanno fallato. No, era fuori gioco loro, forse. Aspetta, eh. Oh mamma. No, no, io non ne faccio tiri strani, perché poi non mi viene bene. Anche perché da là vedo due. Me la porto così, me la porto così. Lewandowski, Lewandowski. Me la porto così. No, no, che c***o. Gli è partita, gli è partita, gli è partita. Ho fatto troppi strani giochetti. Con i piedi e le mie mese. Ma sei già un 2-0, è buonissimo. Maiale. Oh, non li vedo da qua lontano, eh. Per favore. Cosa? I piedi dei giocatori? No, vabbè, no, per favore. Vabbè, vieni, è su. Io non ti ho detto niente. Veramente. Aspetta. Sento le voci. Aspetta. No, zappa. Zappa, per favore. No, zappa è ok, zappa è ok, zappa è ok. Tira la porca cialoca. Niente. L'ha rubata. Eh, ma loro sono belli ingrippati, Ellie. Sono belli ingrippati. Però. Ma, Kou, cosa è? Zitta, feri! No, no, non era dentro. Sembrava dentro. Non l'ho vista dentro. Ma a quello gli sono andato in cancre alle mani. Perché ha le mani nere? Ha i guanti. Ha i guanti. Ha i guanti, ha i guanti. E perché? Farà freddo. Eh, sì, perché farà freddo. Tutti a manica lunga, più o meno. Feri, stai zitto. Che qua è proprio, cioè, mamma mia. Cioè, se non sai i nomi dei giocatori, non dirli. Sembri Geri, che sembri. Oh, la difesa. Oh, mamma. Oddio, ma che ti ho fatto? Hai fatto? Aia! Mi ha fatto male. Quello lì, aia, aia. Oh, ma non c'è il pulsante per simulare? Perché non fischiano il fallo? Non credo. Dovrebbe esserci. Attenzione, perché qua ce la buttano dentro, eh. Perché non si muo... Ma l'ha tirata fuori, questo qua. Mamma Zappa. È stato Zappa? È sempre lui. Ma Santa Maria Zappa, ma che... Carlo. Ma cos'è questo? Questo è il gol di Primo. Se qua ci fanno gol, mi arrabbio un po', eh. Toglietela via! Bravo, Newer! No! Eh no, qua però sono stati loro, eh. Qua sono stati loro. Un incubo per i difensori. Lewandowski. Va. Non è che ha fatto così tanto, eh. Però. Ok. Adesso dobbiamo portarla fuori dalle palle. Ok, non così. Un po' più energici. Dai. No, eh sì. No, no, va bene, va bene. Sì. Va bene? Attenzione. Sì. Va benissimo. No, Zappa. Oh mio... Zappa, passala! Bravissimo, Lewandowski. Eh, bel tiro non era. Non era un bel tiro questo, eh. Non era un bel... Però si era girato in modo molto stiloso. Peccato. Vabbè, due a zero, se arriviamo così al secondo. Infatti ti conviene concentrati sul tenimento della palla. Il tenimento. Lui ha deciso di parlare. Lo sesso, Alex. Dopo molto tempo. Per dire sta cagata. Però se fossi via a palla... Pazzetto! Pazzetto! Cioè... Cioè, hai fatto arrabbiare Stray. Ti rendi conto di quanto... Aiuto! Guarda, guarda che questi stavano pure per segnare. Ma... Questo è perché Alex ha sgravato e mi ha distratto. Alex, stessi... Non devi distrarre! Sei senza vergogna, eh. No, no, no! No! Dai! Eh, vabbè, eh vabbè, però fermateli però dopo un po', no! Eh, fermateli! Dai, bravo, bravo! Dai! Eh! Sì, ah! Ancora, no! Qua mi ha buttato in terra, però! Questo era fallo! Ma va a fare un fallo! No, gli ha fatto... Tunnel! Vabbè! Tunnel? Eh? Oh! Aspetta! Aspetta! No! Dovevo dribblare in qualche modo. Non ho ancora capito bene, ma... Dovevo farlo. Attenzione che ce l'ho di nuovo io? E non ce l'ho più? Eh no! E lo riprendo! Alex, dov'è il tuo tifo? Eh, adesso lo faccio di brutto, eh! Devi portare avanti con Lewandowski e farei un altro gol, il terzo! Va bene! Terzo della serie! Va bene! Vai! È da dentro! L'ho eseguito! Potente! Bravissimo! Strea non ha incitato per nulla. No, no, perdonami. Che schifo. Avevo il terrore e fosse... L'invidia è brutta, eh! Hai fatto schifo. L'invidia è brutta. E smettila di fissare i piedi delle... Cos'è per te? Dobbiamo mettere una mod che mette i piedi dei giocatori grandi? Una telecamera sui piedi! La footcam! No! Aspetta, attenzione! Va bene! Qua era pericoloso, eh! La poteva prenderla, però, eh! Oppure... Vai tu a fare le cose! La fa battare fuori! Aspetta, aspetta, aspetta! Toglietela! No! Togliete sta c***o di palla! No, ma che schifo! Chi era quello? No, 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 no! Vattene, vattene via! Ok, mi fattura! Ho un colpito da papera! Io ho visto due e tre giocatori in porno! Ma proprio in fondo alla porta! Non so cosa facevano lì, però... Oh, che bel passaggio inutile! Va bene, ottimo! Oh, no! Non importa, non importa! Ci ingroppano di nuovo! Oh, che schifo! Mamma che palo! Succate! Succate! Ma l'ho vista dentro io, eh! Ma di brutto! Dai, bravissimo! No, mi ha fatto cadere! Ma è da solo, Messi! Perché non fischia mai? Aspetta, 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 che ce l'ho ancora io, però, eh! Tira la... No, 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 no! No, ma prendila, però! Ma perché non corre, Messi? Ma io non lo so! Ma poi perché mi cambia a me quello che c'è più vicino? Io non... Faccialo su lui! Dai! Fate cose! Fate cose! Bravo! No, l'hai ridata lui! Oh, dai, mancava i minuti! No, no, niente, 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 niente! Niente, 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 questi... Vabbè! Eh, ciao! Vabbè! Ah, ultimazione adesso! Dobbiamo resistere! Terminala, eh! Distruggili! La porto via! Bravissimo! La porto via di più! No, quello non è portare via, quello è darla in bocca al lupo! Quello è farla ritornare a casa! Dai, priviamoli, priviamoli, priviamogliene! Niente! Perché entra un po' fischia! Ma sono in 50! Perché non gliela prendono? Dai, ho che... La tolta, la tolta, la tolta, la tolta! È finita! È finita! Con un decorosissimo! Anzi, bello! 3 a 0! Molto sudato! Mamma mia! Adesso nell'intervista! E tu vuoi dire no, è troppo difficile! Tu sei goloso! Ce la fai, sei bravo! Grazie, Estre! Il tuo supporto guardante piedi è stato ottimo! Ebbè, qua la facciamo l'intervista a post! Ebbè, dobbiamo vantarci qua! Geric sta dormendo! No, scusami! La stai mangiando? Io ti sento... Ancora qualcosa in bocca? Ma infatti sì, ma è possibile che non c'è qualcosa in bocca, eh! L'unica cosa commessibile che ho vicino è i peperoncini, quindi non pensi! Ascolta, se mi fai di nuovo dire che stavi dormendo, mangi il peperone! Non mangerò più! Facciamo un'intervista e vantiamoci dalla nostra vittoria! Mi è partito il cervello! Non volevo dire che non dormo più! Tu puzza! Ma... Lewandowski protagonista con una doppietta! Beh, bravo, eh! Come giudica? Io giudico bene! Ottima prestazione! Ottima prestazione! Straordinario, Lewandowski! L'abbiamo asfaltati! Del resto l'abbiamo pagato un sacco di soldi, sa? Anche tanti! Guarda come sorride soddisfatto, guardalo! Gavinuccio ha nascosto l'orgoglio nei capelli nella partita di prima, ma qui... Ti ha ripreso tutto! Punteremo alla prossima partita, sì sì! Va bene! Ci vediamo domani! Buonanotte a tutti! E Lion out! Buonanotte a tutti!